Oggi ti voglio mostrare un semplice esercizio per ridurre l'ansia e lo stress in pochissimo tempo. Come ho già spiegato in altri video, l'anidride carbonica è fondamentale per il nostro organismo e per far sì che le cellule svolgano le loro funzioni. Una delle azioni di questo gas è quello di sedare, di calmare il sistema nervoso centrale. Nel momento in cui ti senti quindi un po' agitato, in ansia, senti delle tensioni muscolari, l'esercizio che ti propongo è questo. Invece di fare un respiro profondo, butta fuori tutta l'aria completamente, svuota completamente i polmoni e rimane in apnea più che puoi. Quando ricominci a respirare, respira poco e piano. Quindi piccoli, piccolissimi respiri per circa un minuto. Ti sentirai subito più rilassato, sentirai che le tensioni sono diminuite. Se non dovesse bastare, ripeti l'esercizio per tre volte. Questo esercizio aumenterà i livelli di anidride carbonica e questo gas andrà a sedare quindi il tuo sistema nervoso centrale. Spero che questo video ti sia utile, ti aiuti nella vita quotidiana. Ti auguro una buona giornata e una perfetta salute.